Musica Buonasera e bentrovati a tutti i telespettatori di Carpe Diem. Questa sera in studio abbiamo un ospite davvero d'eccezione, una donna che è un esempio sotto il profilo di grande umanità ma anche per il messaggio di estrema positività che trasmette. Sto parlando di Tatiana Bucci, una donna appunto che porta con sé da sempre, da tutta la vita, un'immagine e soprattutto le sensazioni che sono veramente stampate nel cuore, nella mente, di una bambina, una bambina di sei anni, tra le pochissime, tra i pochissimi bambini sopravvissuti all'olocausto. E allora vi presento Tatiana Bucci, grazie per essere qui con noi. Buonasera. Tatiana Bucci detta Tati. Partiamo subito con la foto alle mie spalle che la ritrae appunto da quando era bambina, una bambina di sei anni, la vedete a sinistra nell'immagine e lo vedete sono tre bambini. C'è la sorella Andra. Mia sorella Andra che aveva quattro anni e Sergio aveva la stessa età mia e questa foto dovrebbe proprio essere il 29 novembre del 1943, il giorno del compleanno di Sergio. Ed è una fotografia che è stata scattata a fiume. Ecco, e noi non abbiamo scelto a caso questa immagine perché queste due figure sono estremamente importanti nella sua vita. Una storia atroce, fatta anche di momenti molto intimi e quindi per questo la ringrazio per essere venuta qui da noi in trasmissione a raccontarceli, a trasmetterceli. E una storia difficile naturalmente da raccontare in televisione, cercheremo di farla con la massima delicatezza. Allora, partiamo da quando era appunto bambina, dal giorno dell'arresto. Partiamo dai ricordi per poi venire alle considerazioni anche presenti. Sì, perché quando si parla dell'infanzia ci vengono genericamente in mente momenti belli, spensierati. Per lei non è stato così. Tutto parte da quel terribile ricordo. Ma l'ultima estate del 43 i ricordi sono belli perché c'era già la guerra, però noi non la sentivamo. Mi ricordo anche che siamo scesi più di una volta in un rifugio perché c'erano le sirene che ci avvertivano che bisognava andare in un rifugio. Però la mamma faceva di tutto perché non sentissimo disagi e la guerra. Riuscivamo persino ad andare in spiaggia a fare i bagni nell'estate del 43. E Sergio era con noi perché lui era nato a Napoli, suo papà era napoletano. Lei invece è nata a fiume. E invece noi due sì, siamo nate a fiume. Ecco, io sono partita dal giorno dell'arresto, dal giorno in cui tutto è cominciato, tutti questi episodi atroci sono cominciati. Sì, è cominciata la tragedia. La tragedia. Era un giorno, una notte di fine marzo del 44, se non ricordo male. Sì, era fine marzo del 44. E voi eravate a letto? Noi eravamo a letto, gli adulti per quello che so, che mi ricordo, che probabilmente ci ha anche raccontato la mamma, erano magari ancora a tavola. E sono arrivati in casa i nazisti accompagnati, questo lo so perché ce l'ha detto la mamma, io non lo ricordo assolutamente, ma l'ha detto la mamma. Sì, accompagnati anche da due fascisti e accompagnati anche dal nostro delatore. Come erano vestiti, se lo ricorda? No, se lo ricordo attraverso i ricordi della mamma. Beh, mi ricordo i nazisti, sì, mi ricordo, era soprattutto quello che, io lo chiamo il capo della spedizione, me lo ricordo alto con un cappotto nero di pelle piuttosto lungo e gli stivali. Insomma, l'immagine, no? Sì, l'immagine proprio del nazista classico che abbiamo l'abitudine di vedere anche nei documentari. Beh, sono arrivati logicamente per portarci via. Noi bambini, tutti e tre, eravamo già a letto, la mamma e sia Gisella probabilmente anche, hanno svegliato, hanno incominciato a vestirci. Eravate in tanti in casa, eravate in otto? Eravamo in otto quella sera a casa e quegli otto vivevamo tutti nello stesso appartamento, però c'era un'altra parte della famiglia, erano cinque persone, un fratello con la moglie e un altro cuginetto che aveva la mia e la stessa età di Sergio, un'altra zia che di solito viveva con noi e un altro cugino più grande, Mario, invece erano nascosti, si erano nascosti nel Vicentino. Il cugino Silvio, se non ricordo male. Il cugino Silvio, sì, che era piccolino anche lui, era assieme ai suoi genitori. Fino a quel momento voi bambine immaginavate qualcosa, cioè respiravate quel clima? No, noi bambini no, 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 non sapevo, non sapevo neanche che c'era la guerra, non mi rendevo conto che c'era la guerra. Ho un ricordo netto, chiaro del rifugio, quello sì, e ricordo che c'era un militare italiano che ci dava caramelle o cioccolatini o qualche cosa del genere. Quindi lei ha ricordi di bambina, cioè giocavate come tutti gli altri bambini del mondo? Probabilmente magari anche giocavamo quando eravamo nel rifugio, perché lo ripeto sempre quando racconto la mia storia, che il gioco, me ne sono resa conto poi crescendo, quanto è importante e vitale per i bambini, perché i bambini sono capaci di giocare in qualsiasi situazione. Ne ho avuto la conferma guardando anche i vari documentari che ogni tanto succede di vedere, anche sull'olocausto, per esempio quando mostrano il documentario, quello francese del Veldiv a Parigi, e vedi questi bambini in una situazione, comunque non sono ancora in campo, sono in un velodromo. Però anche nel campo lei giocava? Sì, anche nel campo, noi abbiamo giocato nel campo. Questo è un bel messaggio, perché anche nelle situazioni di estrema disperazione, no? Ma questo succede ai bambini però. Un sentimento di attaccamento alla vita, soprattutto nei bambini. Nei bambini piccoli, perché un bambino più grande, perché qualcuno chiama bambini anche i ragazzi, le ragazze di 14 anni, ma a 14 anni già 12 sei quasi un adolescente, non sei più un bambino. E dici dopo quello che ha passato. No, io a 14 anni ero una bambina, non una bambina, ero una ragazzina del tutto normale. E' cresciuta prima degli altri, più in fretta, dopo questa esperienza? No, non credo di essere cresciuta. Finché ero in campo, sì, e che penso a me, mi vedo cresciuta più in fretta. Ma dopo la liberazione, dopo il passaggio in Inghilterra, lì proprio mi sono ripresa la mia infanzia. Allora, qui abbiamo fatto un salto in avanti. Prima di arrivarci, noi rimaniamo a quella notte. Ci vorrà un po' di tempo. La destinazione sappiamo che era Birkenau, cioè Auschwitz 2, il secondo campo di sterminio costruito nel comprensorio di Auschwitz. Quella era solo la destinazione, ma non è arrivata subito quella destinazione, da quella notte? No, no, siamo arrivate subito perché siamo state arrestate, siamo state portate nei soborghi di Fiume in un posto che si chiama Shushak, perché c'è sempre, è un nome croato perché Fiume aveva la sua minoranza croata da sempre. E dopo Shushak, una notte passata lì, si hanno portato alla risiera di Trieste. San Sabba. San Sabba, non alla risiera, a San Sabba. Che era un campo di concentramento di quelli di passaggio, giusto? No, che era un campo di concentramento per gli ucoslavi, per i partigiani, per i dissidenti. Ma era un po' di transito, era di transito, vero? Ebrei era un campo di transito, perché noi dovevamo finire i nostri giorni in un campo di sterminio. Quindi ci hanno portato lì, ci siamo fermati sicuramente una notte o due lì e poi con un camion ci hanno portato alla stazione centrale di Trieste, dove c'era e c'è tuttora un binario, che assomiglia molto al binario 21 di Milano, come messo perché è lontano dagli altri binari, non lo si vede quando si è nella stazione, un po' veramente come quello di Milano. Del resto adesso a Trieste facciamo di tutto perché diventi anche il nostro binario un monumento nazionale. Insomma, speriamo che le cose vadano in porto. E quindi siamo state portate lì, siamo state imbarcate su questi vagoni bestiame. E lì è iniziato? Ricordo, ricordo il vagone, non so quanti vagoni c'erano, questo non ho la minima idea, ma il convoglio doveva essere abbastanza lungo. Sono passati dei giorni, giusto? E abbiamo passato, sì, sicuramente... Vi caricassero perché è andata così. Non so quanti chilometri ci sono da Trieste a Birkenau, comunque parecchi. E poi il treno si fermava spesso, quindi c'erano delle soste. Allora ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria, mi fermo qui perché da qui iniziano i racconti e i ricordi più atroci. Allora, un breve break pubblicitario, poi torniamo di nuovo insieme qui con Tatiana Bucci, una delle poche bambine sopravvissute all'Olocausto e al campo di esterminio di Auschwitz. Allora, un breve break pubblicitario, torniamo subito. Di nuovo insieme, di nuovo bentrovati. Siamo in compagnia di Tatiana Bucci, una delle memorie storiche viventi tra le poche rimaste insieme a Liliana Segre dell'Olocausto. Stavamo raccontando appunto, signora Tatiana, partiamo dall'interminabile viaggio. Sì, è stato molto lungo, pieno di disagi perché potete immaginare un vagone bestiame, non c'era niente, c'era un po' di paglia per terra in un angolo di questo vagone, un secchio che doveva servire da toilette. Per tutti. Ed è una cosa orribile per me perché penso a quello che dovevano provare le donne, soprattutto le donne più anziani, come la nostra nonna, venivano nascoste da altre donne con delle coperte, ma insomma era una cosa che i nadisti avevano pensato apposta per far perdere la nostra dignità. Ed è una cosa veramente terribile questa. Quanti sarete stati quel vagone bestiame? Gli adulti dicono anche 60 persone. Io non ho idea, non so dirlo. Quello che so è che la mamma ci teneva veramente costantemente attaccate a lei, probabilmente ci parlava, magari ci consolava, perché Andrea e Dio nessuna delle due si ricorda di aver pianto, di aver avuto paura. E cosa vi stavate immaginando voi bambini? Ma io non immaginavo niente. Gli adulti sicuramente immaginavano che non sarebbero arrivati in un campo di lavoro come era stato promesso, ma doveva essere qualche cosa di molto più… Che avevano detto che sareste andate in un campo di lavoro. Perché avevano detto agli adulti, appunto, questo l'ho saputo dopo ovviamente, che si andava in un campo di lavoro. Invece, sì, hanno anche lavorato, ma questo campo di lavoro era un campo di sterminio. Certo, anche perché stavano negli anni delle leggi razziali e gli ebrei praticamente non potevano fare nulla, tranne che questo tipo di lavoro sottomesso. Sì, ma non potevano fare nulla già prima che scopiasse la guerra. I bambini non potevano neanche andare a scuola. Io non ho mai incominciato la prima elementare, per esempio. Avendo compiuto gli anni a settembre, avrei dovuto incominciare la prima elementare e non sono mai andata a scuola. E lei lo sapeva perché? No, non lo sapevo neanche questo, sono cose che ho saputo dopo. Non mi sono resa conto. Non avendo incominciato la scuola, non mi sono sentita immarginata come i bambini più grandi che la frequentavano già. Certo. E quindi, logicamente, la percezione è diversa. L'ho saputo dopo. E quindi siamo, comunque siamo lì in questo vagone. La mamma che sicuramente ci consola, anche perché non c'era lo spazio neanche per stare tutti seduti per terra su sto po' di paglia che c'era. Ogni tanto il treno si fermava e c'erano le fermate. Serviva proprio per vuotare questo orribile secchio. dovevamo essere arrivati probabilmente all'ultima fermata in Italia. La mamma riuscì a scrivere un bigliettino, non so com'è bella carta, com'è bella la penna per scrivere, ma comunque scrisse un bigliettino indirizzato alla famiglia di papà che fece scivolare fuori dal treno attraverso le fessure, perché il vagone era di legno, quindi attraverso le fessure, e questo bigliettino fu trovato da un ferroviere. Un carabiniere poi lo consegnò effettivamente alla famiglia di papà e la mamma in poche parole raccontava che eravamo state arrestate e portate a destinazione a noi ignota. Immagino che durante questo viaggio... E questo l'ho saputo alla fine della guerra, quando siamo rientrate. Immagino che in questo viaggio anche voi piccoline vi sarete accorti che qualcosa non tornava. Probabilmente sì, ma essendo sempre accanto alla mamma non ci preoccupavamo più di tanto. Eravamo troppo piccole per capire. I bambini adesso, anche più piccoli, sono sollecitati da tante cose. Difatti prendono un telefonino, lo sanno adoperare subito, senza spiegazioni. Una volta non avevamo niente, quindi eravamo molto più... Ingenui. Sì, ingenui. È normale. È paradossale, no? Vivere in una situazione del genere, essendo comunque più ingenui rispetto... Sì, rispetto ai ragazzi di oggi. Certo. Certo, perché se ho bisogno di qualcosa, chiedo ai bambini e loro sanno tutto. Certo. Per quello che riguarda un telefonino, per esempio. Siete arrivati e io alle sue spalle questa volta vedete i binari del treno, che però, lei mi diceva prima, non c'erano ancora quando voi siete arrivati. I binari non c'erano ancora quando siamo arrivati noi, era a pochi chilometri da Birkenau, è sempre Birkenau, però è fuori dal campo, perché i binari non erano ancora pronti, li stavano preparando per dei convogli che sarebbero arrivati dall'Ungheria. È il posto dove siamo arrivati noi, ancora oggi, si chiama Judenrampe. La parola stessa lo dice, la rampa, la fermata ebrea, perché non c'erano i binari. Siamo scesi dal treno, c'era un grande salto da fare. Sicuramente siamo state aiutate la mamma, c'è stata una prima selezione. Cioè la prima divisione, quindi, da destra e sinistra. Sì, c'è una prima selezione, prima di tutto uomini e donne. Da una parte gli uomini, dall'altra parte le donne. E poi si selezionava chi sarebbe andato alla morte subito. Tra i bambini insieme, giusto? No, Sergio è stato diviso subito da sua mamma, era dalla parte degli uomini. Noi siamo rimaste con la mamma perché siamo due bambine e quindi siamo rimaste con la mamma. Lui è stato separato dalla mamma prima di noi, sì, perché era un maschietto. Però vi siete separati dalla nonna e dalla zia Rosa. Sì, perché la zia, no, zia Sonia. Zia Sonia. La Rosa era la nonna. La nonna. Sì, loro si sono stati imbarcati su un camion, ricordo vagamente un camion, e quelle persone che salivano sul camion andavano al gas subito. Quindi destinazione camera gas. E di solito al gas andavano i vecchi. E i piccolissimi. Gli ammalati e i bambini. E i bambini. I bambini sotto una certa... No, no, i bambini in genere. Anche i bambini, i bambini. Esatto. E qui... Noi abbiamo avuto la fortuna, perché si può dire veramente la fortuna, che una delle ragioni è che Mengele... Mengele lo diciamo... Sì, famoso... Medico. Medico criminale. Sì, certamente. Perché medico. Sì, era famoso soprattutto per i suoi esperimenti. Soprattutto i gemelli. Sì. Sembra... Ci sono dei documenti che lo dicono, documenti che si trovano nel museo di Auschwitz, oggi anche, che ci ha scambiato per gemelle. E questo è stato il vostro... E allora avremmo potuto essergli inutili e allora siamo scampate alla prima selezione. Perché tra l'altro lui era sessionato dai gemelli, giusto? Sì, sì, sì. Per poter fare gli esperimenti. Per fare gli esperimenti, sì. Esperimenti che poi voi non avete mai fatto quasi? No, per fortuna no, ci è stato detto, ma noi non ce lo ricordiamo, che per gli esperimenti si partiva da una presa di sangue. Ma la presa di sangue non è niente come un'iniezione, non è una cosa che ti resta... Niente a che vedere con gli esperimenti in cui sono stati sottoposti. No, ma si partiva da lì, perché anche lì c'è ancora una volta un documento che lo dice che abbiamo subito una presa di sangue. E' così che incominciavano poi le esperimentazioni. Ma lei se lo ricorda Joseph Mengele? No, questo non me lo ricordo. Mengele? No, non me lo ricordo. Non se lo ricorda? Lo so perché ho letto molto, perché ho visto molti documentari, perché si parla purtroppo... E infatti lo vedete alle mie spalle dalla foto, le due sorelle si assomigliavano come due bocce d'acqua. Cosa dicono? Io non vedo tutta questa assomiglianza. Io la vedo dalla foto, la vedo tantissimo. Io sinceramente non la vedo. Dalla foto posso dire che siete uguali. Vi ho distinto solo perché ho pensato che la più alta a sei anni fosse lei. Sì, sì, adesso è il contrario. Adesso è più alta la sorella. Sì, sì, sì. E sì, proprio per questo, cioè, si ha scambiato per gemelle. Poi potrebbe essere anche un'altra cosa, l'ha detto questo Marcello Pezzetti, uno storico. Siccome siamo figli di un matrimonio misto, non avremmo neanche dovuto partire dalla risiera di San Sabo. Misto, ebrei, quindi? Papà cattolico, mamma ebrea. Mamma ebrea. Ma siccome a Trieste non sapevano cosa fare, per dare la responsabilità agli altri, ci hanno fatto imbarcare su questo treno, questo convoglio, insomma, che partiva dalla stazione di Trieste per arrivare ad Auschwitz-Wirkenau. Allora, una volta che eravate lì... E così hanno dato la responsabilità ad altri. Ad altri. Perché se no non avremmo dovuto neanche partire, restare probabilmente in qualche prigione, ma insomma non in un campo di sterminio, ecco. Dopo la prima divisione in cui siete state separate dalla nonna e dalla zia, vi hanno portato i bambini in una specie di baracca? Prima di arrivare in una baracca, ci sono formate le file, siamo andate a piedi, abbiamo fatto circa tre chilometri dallo sbarco alla Judenrampe fino a un grande caseggiato che esiste e che adesso è stato trasformato in un museo e si chiama la... I vuoti di memoria sono... Non la posso aiutare, mi dispiace. No, 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 mamma mia, lo so come si chiama, comunque è un posto dove dovevamo declinare le nostre generalità, dove ci spogliavano veramente di tutto, è stato uno shock poi vedere le donne nude, la mamma nuda, la prima volta che vedevamo la nostra mamma nuda, non l'avevamo mai vista prima, una volta l'educazione era tutta diversa, non c'era questa libertà anche in famiglia, no? Sì, che c'è oggi. La mamma era vista veramente come qualcosa di superiore, di autorità, non che oggi non lo sia, o meno così dovrebbe essere, però era un'altra situazione. Quindi è stato uno shock, me le ricordo queste donne che cercavano di nascondersi dalla vergogna. In tutti i modi subiscono una rasatura completa, noi bambini no, non ci hanno rasato i capelli, li abbiamo mantenuti, siamo state rasate dopo alla fine perché eravamo piene di pidocchi logicamente. Si fa una doccia, una disinfestazione, abbiamo nuovi vestiti, si fa per dire, non i nostri, non più i nostri, non sempre adatti al tempo, alla taglia e tutte queste cose qui. Poi si va in un'ultima stanza dove veniamo tatuate come animali. Tatuaggio che lei porta ancora, no? Tatuaggio che portiamo ancora sul braccio sinistro. La prima di noi tre che si è fatta tatuare la mamma sicuramente perché voleva sentire se la cosa era dolorosa, non me la ricordo dolorosa, come tanti puntini uno accanto all'altro con una penna e un inchiostro speciale logicamente. La mamma che appunto si è fatta tatuare per prima, il suo numero... Qual era il vostro rapporto con la mamma che riuscivate comunque a vedere, no? Dopo, più tardi sì, perché dopo il tatuaggio si usciva da questo caseggiato, la sauna, si chiamava la sauna, si usciva da questo grande caseggiato di mattoni rossi, tra l'altro. La mamma fu portata insieme a tutte le altre donne in una baracca che era chiamata la quarantena e noi bambini al kinder bloc. Il kinder bloc era il blocco dei bambini, era dalla parte delle donne, dalla parte del campo delle donne. In prima fila proprio noi eravamo davanti alla strada, ma c'era il filo spinato, c'era tutto, la nostra baracca era una baracca di legno. Tutte le altre baracche delle donne erano, e lo sono ancora tuttora, perché non sono state distrutte tutte, e sono di mattoni. La nostra invece era una baracca di legno, che poi alla fine della guerra è stata distrutta e adesso c'è segnato soltanto il perimetro di dove si trovava. La devo fermare perché devo andare ancora in pubblicità, poi torniamo e raccontiamo questo rapporto con la mamma, di come era cambiato, come si sono evolute le cose, quali erano le sue percezioni al campo di sterminio. Allora, un breve break pubblicitario, torniamo subito, tra poco. Ciao. Di nuovo ben trovati con Carpe Diem. Siamo tornati con Tatiana Bucci, che ci stava raccontando una volta il campo di concentramento, anzi di sterminio, come ci sottolinea lei, perché rispetto al campo di concentramento e al campo di sterminio non ci sono possibilità, vero, di sopravvivere? Lo abbiamo raccontato fin qui, il fatto che Tatiana e la sorella Andra si siano salvate è dovuto ad un caso veramente fortuito, una fortuna veramente incredibile. Il fatto che sia qui a testimoniarci la nostra storia è di valore importante. Ringrazio di nuovo Tatiana Bucci per essere qui con noi. Tra l'altro l'abbiamo intercettata tra le sue innumerevoli visite nelle scuole in questi giorni. ha incontrato davvero tantissimi studenti, ragazzi della provincia. L'abbiamo incontrata ieri ad un incontro a Palazzo Ducale, organizzato dalla provincia, dall'Istituto Storico della Resistenza, e ci ha colpito molto come i ragazzi ascoltassero in religioso silenzio proprio questa testimonianza toccante. Anche lei ha colpito questo. Tra l'altro i ragazzi hanno fatto domande anche molto intelligenti. Diciamo che sono schiavi dei social, ma in realtà ho visto ragazzi molto pensanti. Io mi meraviglierei se non ci fosse il silenzio, perché da quando facciamo testimonianza i ragazzi sono sempre molto attenti e in silenzio se si può dire religioso. Religioso, certo. Ci meraviglierebbe il contrario, i loro professori si meravigliano sempre. Ed è sempre successo così anche con gli altri testimoni, non solo con noi, perché fino a poco tempo fa eravamo molto spesso assieme ad altri testimoni, qualcuno nel frattempo è mancato, qualcuno non testimonia più, o pochissimo perché l'età avanza, quindi è normale che sia così, ma il silenzio è sempre stato incredibilmente, anche in campo, quando siamo in campo, a testimoniare in campo che si fanno i viaggi della memoria. Perché lei torna sul luogo della memoria, a differenza di alcuni altri sopravvissuti, che non ce la fanno a tornare in quei luoghi. Lei invece ci ritorna con i nipoti? Con i nipoti ci ritornerò alla fine del mese. Cosa prova quando ci ritorno? Adesso dovrò, cioè i miei nipoti, uno solo è stato con me nel mese di gennaio, gennaio scorso, quando sono stata con il MIUR a fare il viaggio della memoria, è venuto uno dei miei nipoti, ma gli altri due no, non l'hanno mai fatto, ma alla fine del mese lo faccio con tutta la famiglia. Quindi si impegna a riportarli. Torniamo al rapporto complesso con la mamma, perché è cambiato di lì a poco, dall'arrivo. Noi arriviamo lì, siamo nella baracca dei bambini, in questo famoso kinder block, separati dalla mamma, logicamente, ma la mamma quando può viene a trovarci. Però, logicamente, non è successo questa cosa, non è successa immediatamente. Nel frattempo, non lo so, ho avuto modo di capire che sono in un posto dove siamo tutti ebrei, per esempio, perché prima io anche non lo sapevo di essere ebrea, che cosa vuol dire essere ebrea, in fondo. L'ha scoperto lì, sul campo? Ho capito lì, sì, perché sentendo parlare le nostre guardiane che noi chiamavano… Le bloccove, giusto. Le bloccove, perché noi le chiamavano… Da blocco, immagino. Le prego? Da blocco, cioè… Sì, da blocco, sì, bloccove sarebbe… Erano delle responsabili delle baracche, avevano anche dei poteri di scegliere… Sì, non come i capò… Immagino, uomini. Non come… Non so se c'erano capodonne, proprio non ho la minima idea. Però lei aveva una bloccove nella sua baracche. Sì, però non era la nostra, quella che ci voleva, diciamo, bene. Perché le bloccove, diciamolo, erano detenuti? Erano donne? Sì, erano, come dire, erano state scarcerate, perché erano detenute comuni, cosiddette comuni. Ed erano state portate, erano tedesche, erano polacche. Insomma, detenute comuni, portate lì per fare le guardiane nei blocchi. E come mai la vostra bloccova vi voleva bene? Non lo so come mai si era affezionata. Una tra le tante si era affezionata a noi. Ci dava da vestire, ci dava anche qualcosa da mangiare. E vi ha dato un consiglio utile? Ma io credo che, penso, potevamo assomigliare a qualcuno della sua famiglia. Magari aveva delle bambine anche lei, non lo so. Di Hitler si parlava? Di Hitler si parlava? No, noi no. Noi no. No, questo non lo posso sapere, perché noi eravamo bambini. Io non sapevo niente né dell'esistenza del Duce, né dell'esistenza di Hitler. Io vedevo quei pochi soldati che giravano tra noi e basta. Sapevo che erano tedeschi e poi la distinzione tra nazisti e tedeschi è arrivata in questi ultimi anni da quando faccio testimonianza. Prima non sapevo, cioè prima no, lì soprattutto no, eravamo troppo, tra gli adolescenti, perché gli adolescenti non erano nella nostra baracca, gli adolescenti erano con gli adulti. Con gli adulti. Quindi avevano tutto un altro vissuto. Quindi la mamma veniva a trovarvi. La mamma veniva a trovarvi. E voi a un certo punto l'avete vista completamente cambiata. L'avevamo vista praticamente quasi subito cambiata, perché tutti cambiavano in fretta. Prima di tutto non aveva più i capelli, non era vestita come eravamo abituate a vederla, sempre molto bella, molto elegante. Non era fisicamente, pur riconoscendola, non era più lei. Non ci lasciavamo neanche toccare da lei, perché ci incuteva, sì, ci incuteva paura. Però nonostante ciò la mamma deve aver sofferto veramente moltissimo di questa nostra distanza. Avete preso le distanze, ma secondo lei è stato per un sentimento… Di paura. Di paura, cioè in qualche modo vi volevate creare la vostra corazza per cercare di… Probabilmente sì, ed è quello che in qualche modo ci ha salvato. Però la mamma faceva una cosa importantissima, veramente importantissima. Ci ricordava sempre il nostro nome e il nostro cognome. Il suo nome è Liliana, tra l'altro, non è Tatiana. Il mio primo nome è Liliana, perché quando sono nata nel 1937 era impossibile che mi chiamassero sui documenti Tatiana. Perché era così importante ricordare il vostro nome? Perché avremmo potuto perdere la nostra identità. E di fatti la mamma mi deve aver detto un numero di volte abbastanza importante, che mi chiamo Liliana, perché avevo dimenticato di essere Tatiana. Sono tornata a Tatiana, poi alla fine della guerra abbiamo avuto la fortuna di tornare a casa. Avete avuto i sensi di colpa per aver provato quelle sensazioni verso la mamma? Sì, l'ho avuto. L'ho avuto, soprattutto quando sono diventata mamma a mia volta. Quindi molti anni dopo, perché poi non ci ho più pensato. Ma molti anni dopo, sì, quando mi sono ritrovata, Stefano si chiama, il mio primo bambino tra le braccia, ho pensato alla mamma e al nostro, al mio comportamento nei suoi confronti. E ho capito, cioè ho dovuto diventare mamma a mia volta per poter capire... Quanta sofferenza potrebbe aver provato... Aver avuto, sì, esattamente. Lei, ma la mamma è anche sempre comprensiva, no? Esattamente questo, esattamente questo. Una mamma è anche sempre comprensiva? Potrebbe... Sì, la maggior parte delle volte, perché qualche volta si sentono le storie incredibili. La mamma, la maggior parte delle volte, è una persona che per i figli si sacrifica, fa tutto, c'è poco da fare. La nostra era pronta a tutto per noi. Veniamo alla guardiana della baracca, la Blocova, che un giorno vi ha dato un consiglio, no? Per cercare di sopravvivere. Un giorno, un giorno ci ha dato un consiglio, ci ha detto che ci chiederanno se volete raggiungere, se vogliamo raggiungere la nostra mamma, voi... Dite di no. Dite di no, non vi muovete, non fate un passo avanti, rifiutate questa proposta, perché era un inganno. Nessuno poteva immaginare quello che poi è successo a questi bambini che se ne sono andati, perché erano certi di vedere la mamma. Perché voi ogni tanto vedavate prendere i bambini, prelevarli e non tornare più indietro. Perché era successo che c'era uno pseudomedico nel campo di concentramento di Noi & Gamme, si chiama nei pressi di Hamburgo, che aveva bisogno di 20 cavie, veramente cavie nel vero senso della parola, 10 maschi e 10 femmine. E tra questi 20 c'era? E tra questi 20 c'era Sergio. Perché non vuole ascoltarci e lui al richiamo, lo possiamo chiamare il richiamo della mamma, non resistete e se ne andò assieme agli altri. Felici perché erano contenti, ce li ricordiamo sorridenti quando ci lanciarono perché erano convinti di andare incontro la mamma. E lui ha detto sì, non vi ha ascoltato, per tanta era l'ansia, la gioia di rivedere la mamma. Certo, andarono incontro alla morta. Era più piccolo Sergio tra l'altro. Prego? Era più piccolo Sergio tra l'altro. Beh aveva pochi mesi meno di me. Meno di lei. Io sono nata a settembre, 19 settembre, lui è nato il 29 novembre, quindi insomma avevamo la stessa età. E poi se se la sente di dircelo, che cosa le è successo a Sergio? È successo che assieme agli altri 20 bambini, erano 20, 10 maschi e 10 femmine, sono stati sperimentati, veramente come fossero delle vere cavie, c'è uno storico inglese che era ultimamente con noi quando abbiamo girato un film documentario su questa storia di Sergio, che erano nella stessa baracca dove tenevano i conigli, che erano proprio cave. Quindi nel vero senso della parola sono state delle cavie. Lui e altri 19 bambini? Sì, 10 maschi e 10 femmine. Hanno sofferto, io credo, l'indicibile. La guerra praticamente… Sì, noi eravamo già liberi, perché sto parlando del 20 aprile del 45. 5, siamo quasi a un anno, 10 mesi. Sì, loro sono lì, la guerra è persa e noi siamo già liberi però, perché a gennaio è stata liberata Birkenau. Li prendono, li portano in una scuola alla periferia di Hamburgo, Bullenhuserdam si chiama, li portano nello scantinato, vengono sedati, c'è qualcuno che se ne va, ma non tutti e li appendono a dei ganci di macellaio. Qualcuno è così leggero che deve essere tirato per le gambe e questa è la fine di questi 20 bambini che poi sono stati riportati a Noi Engamme, dove sono poi stati cremati. E questa storia l'ha portata alla luce un giovane giornalista allora negli anni 50. Tedesco. Tedesco, Günther Schwarberg si chiamava, ci ha lasciato oramai più di 10 anni fa. e l'ha saputa anche attraverso una storia abbastanza complicata, comunque ha saputo della storia di questi 20 bambini e lui ha speso praticamente tutta la sua vita per cercare i colpevoli, farli processare, farli condannare, in parte ci è anche riuscito, ma quello che è molto importante per noi familiari umanamente è che è stata creata una fondazione che si chiama appunto Bullenhuserdam. Ogni 20 aprile c'è una cerimonia per ricordarli, ad Hamburgo ovviamente, per ricordarli, c'è una parte del cortile di questa scuola, perché Bullenhuserd era una scuola, è stata trasformata in un giardino di rose bianche, una volta erano solo rose bianche, adesso sono un po' di rose perché c'è sempre qualcuno che aggiunge altre piante di rose. e ci sono venti lapidi all'interno del muro e per noi è come andare al cimitero. Certo, lei ci pensa sempre a Sergio, ci pensa spesso, vero? A Sergio ci penso spesso, sì. Sergio e gli altri bambini hanno veramente, probabilmente è la storia più crudele che i nazisti hanno fatto nei confronti dei bambini. Dei bambini. Sì, veramente la più crudele nei confronti dei bambini. Siamo purtroppo verso la chiusura, io le chiedo una cosa, una sensazione che ha avuto, cosa le fa pensare Liberazione? Che cosa, quando si è accorta che tutto era finito? Io non me ne sono accorto. Ho saputo pochi giorni fa che non se ne sono accorti neanche gli adulti. Quei pochi adulti che erano rimasti nel campo perché non erano in grado di fare la marcia della morte. Noi bambini, nessuno di noi ha fatto la marcia della morte perché eravamo troppo piccoli. Quelli più grandi sì, ma non erano nella nostra baracca quelli più grandi, non tutti perlomeno. La libertà l'ho capita dopo. Molto dopo. E c'è niente ancora. La libertà e la vita. La vita. Lei lo diceva anche ieri. Io spero di trasmettere questo ai ragazzi. Sono positiva. Sì, io sono positiva. Anche perché mi reputo fortunata di avercela fatta. Sono stata fortunata in tutti i sensi. Ho avuto la forza di ascoltare quello che ci ha consigliato questa famosa bloccova. Ho avuto la fortuna di non amalarmi, di essere sempre assieme a mia sorella. Quindi eravamo in due. A parte che ero la più grande che mi occupavo molto di lei, ma anche lei sicuramente mi ha aiutato ad andare avanti in un certo modo. Che uno sente o legge o sente chi critica e chi nega l'olocausto? Allora, non ho mai incontrato uno personalmente che l'ha negato davanti a me e sinceramente non saprei cosa ribattere e cosa dirgli. Perché non credo che basterebbe mostrargli il mio numero tatuato sul braccio per farlo desistere. Ma mi fa, come dire, mi fa male. Mi fa male perché penso a tutti quelli che se ne sono andati. Soprattutto ai bambini. Perché una parola su un altro cuginetto che avevo, che è stato invece arrestato molto tardi. E noi eravamo già liberi quando loro andavano verso Bergen-Belsen, che è in Germania. E lui, purtroppo anche lui, non ce l'ha fatta. È morto tra le braccia della sua mamma. E la mamma, tra l'altro, ha detto un messaggio. E la mamma ha detto, finalmente. E questo è straziante. E questo è straziante, veramente straziante. Ma quello che posso dire mi consola è che almeno è morto tra le braccia della sua mamma. Non come Sergio. Non come Sergio, sì. Volevo arrivare a questo, almeno a questo, sì. Grazie, grazie davvero. Grazie a Tatiana Bucci per essere stata con noi. Lei, tra l'altro, la madre e il padre li ha ritrovati subito dopo, no? E sono loro che hanno ritrovato noi. Lei era all'orfanotrofio a Praga. Perché noi eravamo certi che loro erano morti. E che erano morti. Il padre dov'era? Eravamo in Sudafrica, prigioniero degli inglesi. Quindi vi siete ritrovati dopo la vostra, in particolare una storia a lieto fine. Sì, sì. Credo, non conosco un'altra storia di due sorelle che ritrovano mamma e papà. Il nostro piccolo, tutti gli altri sono morti purtroppo. Eravamo in 13 in tutto a essere deportati. E siamo comunque sopravvissuti in quattro. Le due mamme, la mamma di Sergio e la nostra, e noi due. Su 13 la percentuale è alta. Ci sono famiglie intere che erano più di 20 persone e che non è ritornato nessuno. Quindi siamo state veramente fortunate. Grazie. Grazie a Tatiana Bucci a tutto quello che fa per testimoniare la sua esperienza. Grazie per essere stata con noi. Grazie. Grazie telespettatori di Carpe Diem per averci seguito fin qui. Ci vediamo tra pochissimi istanti di pausa con un'altra storia, una sorpresa. Ci vediamo tra poco. Di nuovo ben trovati, di nuovo insieme con Carpe Diem. Come vi ho anticipato in questa parte cambiamo completamente argomento, ma non vi ho annunciato l'ospite che vi presento subito. In collegamento abbiamo il giornalista e velista Enzo Bencini. Buonasera, ciao Enzo, ben trovato. Buonasera a tutti gli spettatori, buonasera a te Silvia. Lo abbiamo raggiunto mentre è in vacanza, quindi grazie del tuo tempo. È a Malaga, vediamo lo scenario bellissimo alle tue spalle, ma ti abbiamo raggiunto per approfondire con te Enzo un fatto di cronaca che ti è accaduto pochissimi giorni fa. Come ho anticipato, tu sei oltre che un giornalista, un velista, conoscitore profondo del mare, vai in mare da 50 anni e pochi giorni fa ti è capitata una disavventura proprio sull'Atlantico, che non ti era mai capitata, correggimi se sbaglio. La tua imbarcazione attaccata sullo stretto di Gibilterra, chiedo a Marco di farci vedere le immagini, così lo vediamo direttamente in onda, accerchiata all'imbarcazione da una ventina di orche. E quindi lascio la parola per cercare di spiegarci meglio anche quali sono state le tue impressioni a te, che naturalmente non eri abituato a una situazione del genere in cui, mi pare di aver capito, non ti sei mai trovato, però hai avuto il sangue freddo intanto per riprendere il tutto. Ecco, qui intanto vediamo la cartina del punto esatto dove ti trovavi. Sì, perché dunque io ho deciso, appena andato in pensione, di fare due grandi progetti. Uno è andare sull'Himalaya, l'ho fatto l'estate, l'ottobre scorso. E poi la grande traversata dell'Atlantico, che era un mio sogno da quando ero ragazzo, ma non avevo mai avuto il tempo, perché ci vuole veramente alcune settimane. E sono partito, questa è la moto vedetta che ci è venuta a salvare. Eh sì, qui siamo alla fase finale, esatto. Ma volevo chiarire, sì, volevo fare un attimo un cappello, perché siamo partiti da Martinica, con una barca di 17 metri a vela. Eravamo un equipaggio di otto persone con un bravissimo skipper, che è il padrone della barca e guidava la barca. Noi ovviamente eravamo a Timone, eseguavamo le manovre a suoi ordini, come si fa in questi casi qua. E anche alla partenza avevo visto un'orca, per dire, ma non creava nessun allarme. Abbiamo visto balene, abbiamo visto delfini, tartarughe, insomma tutto quello che il mare offre. Nelle tre settimane di traversata per arrivare alle Azzorre, dove abbiamo avuto comunque delle tempeste, quindi abbiamo fermato la barca per fare anche delle riparazioni, poi siamo ripartiti con un equipaggio diverso e io ho continuato. Il Loschip era molto preparato, sapeva benissimo i pericoli delle orche a largo del Portogallo, quindi si sta parlando non in tutto il mondo, ma in una zona specifica davanti alle bocche di Gibilterra, le cosiddette colonne d'ercole. Un punto in cui a volte sta capitando, ma soprattutto negli ultimi anni, dagli ultimi anni a questa parte, mi pare di aver sentito anche da dopo la pandemia. Hai ragione Silvia, si è così e ultimamente questi attacchi di orche in questa località qui sono diventati estremamente frequenti, ce ne sono anche più al giorno e quindi diciamo gli skipper che sono preparatissimi e sono competenti seguono con grande attenzione questo problema, perché è un problema che potrebbe anche diventare molto serio. Anche le autorità locali ovviamente seguono il fenomeno e lanciano anche... Ti spieghi Enzo? Ti sei dato una spiegazione? Allora, beh, io non sono né uno specialista di zoologia, di etologia, non conosco, però mi sono fatto un'idea estremamente personale. Perché qui, solo in questo punto, succedono queste cose? Credo che questo posto sia particolare per due motivi. Primo perché, essendo come un collo di bottiglia, concentra molto il traffico sia di barche che anche di pesci. Infatti noi sappiamo che i tonni che entrano nel Mediterraneo, i più buoni del mondo, quelli che poi prendono i giapponesi, transitano da qui, vengono dall'Atlantico e transino. Quindi c'è una concentrazione di pesce che immagino, questa è la mia opinione personale, possa anche attrare i loro predatori, cioè le orche. Quindi ci sono tante orche qua, e dall'altra parte ci sono anche tante barche, tante imbarcazioni. Fra quella ventina di orche che hanno assaltato ne ho viste qualcuna che aveva segni di elica sul loro dorso. E' un ben distinguibile, anzi, quelle immagini che ho registrato provvederò a darle poi agli strutturi che studiano viceatrice. Non so se si vede benissimo dalla messa in onda, però quello che all'inizio pareva essere un avvicinamento, poi è diventato un vero e proprio accanimento dei cetacei all'imbarcazione che hanno staccato un pezzo di timone. Sì, nel nostro caso è durato due ore l'attacco, non finiva mai. All'inizio noi dell'equipaggio eravamo anche contenti, le avevamo già viste le orche a Martinica, ma fugacemente queste erano molto vicine, quindi belle da fotografare, però lo skipper aveva subito capito il grande pericolo che c'era e aveva subito adottato i protocolli che si devono fare in queste occasioni qua. Abbiamo provato tutto per dissuadere, avevano cominciato a spingere la barca dandone le botte e già a mordere il nostro timone staccandone i primi pezzi. Allora abbiamo provato con De Razzi, quelli di soccorso, li abbiamo legati a un mezzo marinaio, che è una specie di bastone utile per fare le manovre quando siamo al porto, li abbiamo messi sott'acqua perché quei fuochi funzionano anche sott'acqua, non si spengono, in modo da spaventarli, ma questo non è servito. Abbiamo provato un po' di tutto, tutto quello che era possibile, ma le orche continuavano ad attaccarci e staccare nuove pezze di timone. Quindi c'era pericolo che aprissero anche delle falle, far entrare l'acqua nella barca e quindi farla affondare. Ma chi avrebbe avuto il coraggio di mettere la zattera di salvataggio che è un piccolo canottino quando ci sono queste 20 orche intorno a te che in un solo boccone ti facevano sparire? Questo ci è voluto... Ma solitamente le orche non attaccherebbero l'uomo? No, non attaccano normalmente. È solo questo gruppo particolare di orche in questa località che sono veramente diventate pericolose. È un fenomeno in crescita. Quando siamo arrivati al porto trainati dalla motovedetta loro ci hanno detto che nella stessa giornata abbiamo salvato un altro catamarano. Infatti lì è iniziato il tuo spavento perché hai pensato che avresti potuto temere veramente il peggio. Sarebbe potuto andare molto peggio di così. E' vero che poteva essere successo qualcosa di peggio ma devo dire con molta onestà, non per spavalderia però, c'era molta attenzione ma non paura. Sapevamo che stavamo facendo tutto quello che si doveva fare, non entrava acqua a bordo quindi il pericolo era solo rimandato, era potenziale ma non era effettivo in quel momento. ci è andata bene, ad altre imbarcazioni è andata molto peggio. Ecco, dopo questa esperienza tu l'hai detto non smetterò di andare in mare. Non ha molta paura fino a questo punto. No, no, assolutamente. Anzi, invito tutti quanti al mare meraviglioso, a fare anche queste traversate se avete tempo e disposizione organizzatevi per le traversate atlantiche però non improvvisate, questo è il mio semmai suggerimento. Sono cose bellissime da fare, era il mio sogno della vita che ho coronato magari li farò nell'altro verso in direzione Europa, verso America, ripassando anche dallo Stato di Giviterra. ma l'importante è andare con personale preparato, con degli skipper professionisti che sanno ad esempio il nostro aveva già fatto 18 volte quella traversata, con il suo socio 36 volte accompagnati da persone così capaci ed è sempre sotto controllo quindi le cose peggiori succedono in mare quando non si è preparati. Certo. Enzo, grazie, grazie per averci raccontato la tua avventura, la tua storia grazie per essere stato partecipato a Carpe Diem e ti lasciamo in vacanza, un buon proseguimento. Grazie e saluto. Grazie a tutti i tuoi spettatori per averci seguito anche in questa puntata e vi do appuntamento come sempre a martedì prossimo sempre alla stessa ora alle 21 e 15. Arrivederci e buonanotte. Grazie a tutti. Grazie a tutti.